Questo cane, afflitto dalla tristezza, aveva un'espressione miserevole sul volto, segno della sua depressione. Dopo centinaia di giorni trascorsi in attesa di adozione, malato e privo di speranza, sembrava aver rinunciato alla vita. Tuttavia un giorno, una famiglia lo ha adottato improvvisamente, riempiendolo di amore e ridando significato alla sua esistenza. La trasformazione è stata sorprendente, da un cane depresso a uno pieno di felicità, circondato da amore e affetto. Se avete desiderato adottarlo, vi invitiamo a iscrivervi.